Buongiorno a tutti, do un caldo benvenuto a tutti i presenti e anche alle persone collegate da lontano. Prima di iniziare i lavori chiederei di fare un minuto di silenzio per rendere omaggio e essere vicini alle vittime di questo terribile incidente che c'è stato a Mestre e anche i loro familiari. Allora ci alziamo per un minuto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, è con emozione che apro i lavori di questo nono colloquio. Per chi partecipa per la prima volta ricordo che i colloqui veneziani hanno inizio per desiderio di Giorgio Sacerdoti solo qualche anno dopo la fondazione del Centro Veneto avvenuta nel 1980. Nascono quindi all'interno del clima caldo, amichevole, intimo, perfino spensierato, che nelle parole di Carla Rufina Zennaro, altra socia fondatrice, colorava le riunioni degli inizi. Si svolgevano nelle rispettive case a turno, i soci erano pochi, senza sede, sparpagliati per il Triveneto, ma uniti dalla comune passione per la psicoanalisi e per la ricerca condivisa. Fin dall'inizio e nella loro tradizione, accanto ad una rigorosa riflessione scientifica sulla teoria e sulla tecnica psicoanalitica, vive nei colloqui la spinta ad aprirsi ad altre epistemologie, filosofiche, letterarie, artistiche, nella convinzione, in continuità con il movimento psicoanalitico delle origini, che alla psicoanalisi spetti anche farsi responsabile della ricaduta del pensiero, nella cultura, nella storia, nella struttura della società, prendersi cura con il proprio metodo anche delle sorti del mondo. Questa è rimasta nel tempo la caratteristica fondamentale di questi incontri, che da allora si sono succeduti a cadenza più o meno quadriennale. Colloquio racchiude nella sua radice parlare insieme, la tessitura in forma di dialogo di un pensiero non affermativo ma interrogante, che ama inoltrarsi nelle pieghe dei concetti, nei chiari scuri talvolta contraddittori e sempre indivinere dei temi affrontati. Primo, nel 1988, la seduzione, che viene analizzata nel suo duplice statuto. Il suo etimo, condurre a parte, sviare, richiama i rapporti di forza a lei sottesi e viene, a tal proposito, ricordata da Alberto Semi, che ha anche ricordato che anche gli psicoanalisti sono seducibili e influenzabili dalle ideologie correnti, anche se generalmente poco inclini a riconoscersi tali. Ma essa è anche la modalità d'incontro tra due persone più imprevista e imprevedibile, la più carica di mistero perché confronto tra due immaginari. In questo senso mi piace pensare che la seduzione, come spinta alla vita, fantasia, desiderio, possa aver costituito la premessa, lo sfondo, per i colloqui successivi, che senza perderla di vista e con lo sguardo sempre rivolto alle vicissitudini del presente, hanno interloquito sui grandi temi teorico-clinici della psicoanalisi. Ne cito alcuni, differenza, indifferenza, differimento, equazione a ripetere, ripetizioni trasformative, metamorfosi della pulsione e ancora. Il quarto colloquio è il primo senza Giorgio Sacerdoti, che sarà ricordato con nostalgia e commozione con un tema, verità storiche e psicoanalisi, a lui molto caro. Mentre in quello successivo, Le fonti dello psichico, dedicato ad Agostino Racalbuto, sarà ripercorso il suo pensiero intorno all'originario, agli affetti sensazione, al maschile femminile, alla possibilità di un nuovo inizio, e messa in luce la sua speciale capacità di creare congiungimenti, lavorando sulle differenze e sui conflitti, vivendo nei territori limite dello psichismo, lungo il border, come il titolo di un suo lavoro. Ultimo prima di questo percorsi dall'oggetto al soggetto nel tempo della cura, del 2020, unico purtroppo online causa pandemia. L'esperienza della pandemia è senz'altro ispiratrice anche dei temi di oggi, mossi da quanto di pericolosamente distruttivo abbiamo visto accadere negli ultimi anni, come movimenti emergenti di massa. Un'esperienza che ha coinvolto l'intera terra e ha rappresentato per ognuno un'inaspettata, traumatica perdita delle sicurezze di base, delle certezze, seguita senza soluzione di continuità da una guerra in Europa, il risvegliarsi della minaccia nucleare, l'impensabile crudeltà che circonda i movimenti migratori, un allarme climatico che non si lascia più mettere da parte. Nel colloquio del 1993, focalizzato sulla dialettica tolleranza-intolleranza, veniva riaffermato che il grado di tolleranza di ciò che è intollerabile ha a che fare con la quota di violenza che soggettivamente ognuno può integrare nel proprio funzionamento psichico, con il limite oltre il quale tale funzionamento non può accettare una verità altra e la disconosce. Sotto un cielo di incerto futuro, come vola la speranza? E l'illusione di poter scrivere il proprio destino è anche un po' quello del mondo? Cosa succede ai processi difensivi se in un'atmosfera di vulnerabilità diffusa si propagano in fenomeni di massa? Se nella vita individuale di niego e percezione quasi non possono non camminare insieme, e il primo permette e il primo permette quel grado di illusione necessaria al funzionamento psichico nell'impatto con la durezza del reale, rendendolo addirittura più brillante, brillantezza sospetta però, che già Ellen Deutsch vedeva correre verso una cronica ipomaniacalità. Altrettanto appaiati camminano di niego indifferenza. Non a caso Freud lo nomina per la prima volta a proposito dei meccanismi in gioco nella perversione. Mentre la negazione dice vorrei che non fosse, lasciando aperti i giochi con ciò che è rimosso, che anche se non accettato viene riconosciuto, il di niego esclama questo non esiste, a costo di scindere l'io pur di evitare il conflitto e il dolore. Porto le parole di due pensatori non psicoanalisti. Stanley Cohen, cresciuto in Sudafrica, quando da piccolo poneva domande sulle situazioni di discriminazione a cui assisteva, si sentiva dire che era un bambino troppo sensibile. Così cominciò a chiedersi ma i miei genitori vedono quello che vedo io e non ne sono toccati o lo credono giusto oppure percepiscono altro? Da sociologo, nel suo dettagliato studio stati di negazione, ha costruito una sociologia del diniego che vede nel suo mancato riconoscimento la prima radice, la più profonda, dell'immoralità collettiva. In modo speculare, Freud aveva individuato nel progetto la fonte di tutte le motivazioni morali nell'originario riconoscimento, nell'intendersi. Le figure del diniego, scientemente praticato dei poteri costituiti, appaiono così variegate e persuasive da risultare di difficilissimo riconoscimento ed elaborazione. Dal negazionismo assoluto al giustificazionismo, agli eufemismi mistificanti di errate nominazioni, al discredito. La lettura della realtà tendenziosa, ingannatrice che forniscono si diffonde nella sensibilità delle persone, non nella forma brutale della menzogna, ma in modo più sotterraneo, suscitando alterazioni identitarie, de-responsabilizzazione, appiattimento emotivo, l'impoverimento del proprio essere nel mondo di chi non sa o si finge di non sapere. Diniego di massa e decadenza dell'umano, già iniziare dal secondo dopoguerra, sono stati preconizzati da Gunther Anders, che con estremo rigore tenace, e per questo rigore veniva invece rigettato come troppo pessimista e difficile da sopportare, ha analizzato la condizione umana all'epoca della terza rivoluzione industriale, in cui l'umanità divenne in grado di produrre la propria distruzione. Si riferiva allora alla bomba atomica, ora potremmo mettere in fila vari modi di autodistruggerci. La discrepanza tra la misurata potenza della tecnica, nuovo soggetto della storia, e il decadimento dell'uomo ha servito i suoi dispositivi, troppo antiquato per comprendere appieno quello che gli sta accadendo, disegna un tempo di avanzante individualismo senza individuo, una definizione di adorno, declassato al rango di spettatore, di esemplare anonimo, fungibile e sostituibile, che con ridotta autonomia e capacità di giudizio, è portato a funzionare secondo il principio di inerzia, che mira ad evacuare le cariche e abbattere le tensioni interne al punto zero. Nulla di più falso, scrive, di chi sostiene che viviamo nell'epoca dell'angoscia, viviamo piuttosto nell'epoca della minimizzazione. Di fronte all'imprevedibile dismisura di ciò che si realizza e perpetra, si è creata una frattura nell'umanità. A paragone di ciò che sappiamo e possiamo produrre, possiamo immaginare e sentire troppo poco. Nel sentire siamo inferiori a noi stessi. Anders propone esercizi di estensione morale, per contrastare questa perdita di vita psichica è necessario allargare il sentire, anche la paura se adeguata al pericolo. Il coraggio di avere paura, anzi il dovere di avere paura, senza ricorrere alla speranza, e qui in polemica con Bloch, ci può riconsegnare alla libertà di riconoscere la propria libertà e di pensare alla liberazione. Come recita un aforisma di Stanislav Leck, quando la paura è pallida, ha bisogno di sangue. e adesso chiedendo ai relatori un andersiano rispetto dei tempi per poter dedicare molto spazio alla discussione, passo la parola al presidente della SPI, Saranti Stanopoulos. Ho sempre una difficoltà con i microfoni, si sente bene? Ok. Allora, intanto ringrazio Maria perché ha fatto un discorso che è la premessa almeno, non ci siamo accordati, ma così è. più vicino ok. Bene. Allora, questo colloquio di Venezia che è vicino al colloquio di Palermo è una cosa, occasione importante per la SPI, esattamente come quello di Palermo e anticipano in qualche modo la nostra strada per il congresso nazionale della SPI che si svolgerà a Roma dal 24 al 26 maggio e avrà come tema psiche e polies. Ho preferito non fare un saluto formale, ma, seppur molto brevemente, entrare nello specifico della questione dedicato a questo breve ma sentito scritto come forma di omaggio dovuto a Alberto Seme, uno degli psicanalisti che più ispirano la mia idea di appartenenza alla SPI come società libera, aperta al dialogo paritario che include la franchezza e il conflitto e Agostino da Talbuto di cui sento tuttora la mancanza, l'abbiamo perso molto presto. Allora, entro direttamente nel tema. L'illusione, il tema centrale di questo importante convegno, senza la quale di niego e speranza le due forze opposte che si contendono lo spazio sia nella vita della polis sia in quella dei nostri analizzanti, non possono essere definite e comprese in modo rigoroso. L'illusione è oggetto di fraintendimento continuo da sempre. La intendiamo in due modi contrari, l'illusione poetica e il sogno da una parte, l'auto ingano, il prendersi in giro dall'altra. Nei vocabolari la si trova definita esclusivamente nel secondo senso, anche se la sua radice temologica sia in greco sia in latino, rimanda all'essere in gioco. Non è un caso che è stato il grande teorico del gioco Winnicott a valorizzare l'illusione come qualità fondamentale del nostro abitare la vita. Il bambino crea il seno prima di poterlo riconoscere come cosa che già esisteva e successivamente nella fase di transizione verso il riconoscimento della diversità, quando il seno l'oggetto e la realtà saranno riconosciuti come mondo esterno il bambino crea un oggetto intermedio transizionale che media tra sé e l'altro da sé. Per questo oggetto è importante che nessuno ponga la domanda è creato dal bambino o viene da fuori? La domanda non si pone anche per la poesia per l'arte e per il sogno che poggiano sull'oggetto transizionale neppure per la scoperta scientifica se vogliamo davvero essere rigorosi. Calderon della barca ha detto che la vita è un sogno e Shakespeare che siamo fatti della materia dei sogni. Viviamo nel sogno del giorno e della notte. Oggi ogni nostra esperienza vissuta e conosciuta oggetto di un sapere strutturato e complesso mediato della parola affonda le sue radici nel silenzio della parola nella co-costituzione reale della nostra materia con la materia dell'altro. Questa co-costituzione dei nostri inizi di vita che resta come nucleo centrale permanente della nostra soggettività poggia prima sull'illusione di una fusione con l'altro e dopo sull'illusione di natura isterica di essere e al tempo stesso non essere ciò che egli è. Freud quando parla del sentimento oceanico o dell'allucinazione con cui il bambino colma provvisoriamente lo spazio di assenza dell'oggetto che precede l'allucinazione onirica apre perontoriamente la strada Winnicott. Del resto da dove origina la straordinaria intuizione di Winnicott che il bambino crea il seno se non da un frammento pubblicato postimo di Freud in cui si dice che per l'infante l'essere il seno viene prima dell'averlo? Credo di non tradire il pensiero di Freud se traduco la sua affermazione in questo modo bisogna illudersi di essere il seno l'oggetto per poterlo davvero avere. Freud nell'avvenire di un'illusione fa coincidere l'illusione con il suo significato linguistico corrente l'autoingano. A dire il vero lo facciamo tutti ci allineiamo nello spirito di una società che non si fida dei sogni anche quando nei sogni vediamo come analisti lo strumento più autentico seppure complicato e contraddittorio di interpretazione desiderante della realtà. La distinzione essenziale tra l'illusione creativa e l'illusione che in realtà è un autoingano sta nel fatto che la prima si consente di conoscere e vivere la realtà la seconda la denega. Il deniego è diverso dalla negazione come diceva Maria di cui è usato comunemente come sinonimo. La negazione è il rifiuto di riconoscersi in una rappresentazione. Il deniego è il rifiuto della percezione dell'esistenza reale della cosa rappresentata. Freud dice che il deniego colpisse la percezione del fatto reale dell'assenza del pene nella donna. Nella sostanza dice che il deniego colpisse la madre delle differenze la differenza dei sessi la differenza dona uomo. Ogni deniego della realtà ha le sue radizie nel rifiuto della relazione tra le differenze fondamente del nostro rapporto desiderante con la realtà l'unico che ci permette di conoscerla e abitarla. Una società fondata sul bisogno e sulla scarica non conosce la realtà e lo vediamo nei nostri giorni. Il deniego delle differenze è il fondamento del neutro della monade indifferenziata dell'uno direbbe Green la sostituzione dell'inatteso con l'atteso dell'imprevedibilità con la predeterminazione dell'uto con l'autoreferenzialità della trasformazione con l'inerzia la resilienza. Il neutro espira l'attuale idolatria del simulacro l'autoingano il deniego sostituisce la prestazione alla realtà a una natura pigmalionica legata al feticio che sia la medicina lo spettacolo o l'intelligenza artificiale a incarnarla. Illusione invece lega la rappresentazione alla realtà indirizza il desiderio che ispira la rappresentazione e la abita verso una soddisfazione che coniuga l'atteso con l'inatteso la ricerca con la sorpresa il consueto con la scoperta. Essa è presentimento premonizione radicata nelle trasformazioni sensuali della nostra materia psicocorporea nel tessuto vivo della nostra esperienza e intuizione vivente che estende l'esperienza e il suo senso al di là della sua concretezza orienta la nostra permanenza nello spazio in cui ci sentiamo davvero vivi dove la soddisfazione del desiderio non si chiude nella sua linearità diventando sfogo ma si espande mentre si compie in direzioni laterali legandosi ad altre situazioni e implicazioni affettive e mentali del passato e del presente. Grazie all'illusione la soddisfazione compiuta resta insatura aperta ad altre evoluzioni e prospettive che vengono dal futuro l'illusione è indissociabile dalla disillusione perché convive con il lutto senza il quale perde la sua qualità divinatoria ma è lontana dal disincanto il risveglio traumatico dall'antoigano che può portare di nuovo nel diniego diventando cinismo la speranza è parte dell'illusione non è mai infondata a meno che non lo si chiude nella trappola dell'attesa compiuta l'opposto dell'illusione è il diniego l'opposto vero della speranza non è la disperazione ma la consolazione l'illusione ci consente di guardare la realtà insieme con occhi aperti che osservano e con occhi chiusi sognanti che colgono ciò che non si dà a vedere lo specifico della psicoanalisi di cui Pontaglis ha parlato brillantemente impedisce che il rapporto con essa si appiattisca sulla sola percezione di per sé cieca e insensata la percezione che non sogna non ci dice nulla della realtà è uno sguardo cieco il diniego fonda tutto sul fallo il tutto da vedere che si oppone drasticamente al nulla da far vedere della vagina e del suo segreto inconoscibile se non alla dona e al suo modo interiore del aprirsi alla vita ciò che è denegato in effetti è il significato della vagina la cui percezione non si rivela affatto la sua intima essenza la vagina è la rappresentazione metaforica per eccellenza del fatto che il senso della realtà e dell'umanità non sta in ciò che si vede il diniego nulla vuole sapere del sogno vuole vedere sempre a occhi aperti e di conseguenza inventa il tutto a vista il simulacro privo di vita e di senso a cui assoggettarsi contro il simulacro gli analisti devono essere in prima linea non ritenersi magicamente al di sopra delle parti grazie 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 grazie